Anche Mosciano Sant'Angelo si prepara alle amministrative dell'8 e 9 giugno, quattro i candidati scesi in campo, Nadia Baldini con la lista puntiamo Mosciano, Luca Lattanzi con Mosciano domani ed Ercole Core per Mosciano Civica che sfideranno il sindaco sciente Giuliano Galiffi in corsa per il terzo mandato con Mosciano Democratica. Il sindaco sciente Galiffi nel suo programma punta sulla continuità e sulla concretezza. È un programma fondato sul lavoro svolto con tante certezze, concretezze, non è un libro di sogni. Noi ci presentiamo con un rendiconto ma che nello stesso tempo quel rendiconto proietta in avanti tutta la possibilità di una programmazione certa, di fondi certi. Quando riguarda il PNRR relativamente alle scuole nuove siamo riusciti ad ottenere grazie alla programmazione puntuale, alla progettualità puntuale, l'inserimento nel piano nazionale del riparto di fondi alle regioni. Quindi tutto un lavoro che va avanti ma già messo in campo e altri ancora da mettere in campo di finanziamenti certi che sono il risultato del lavoro svolto in cinque anni. Oltre a quello che naturalmente è stato quasi concluso, parla della discarica, parla della sistemazione di contrata marina, gli interventi per l'area urbana degradata. La squadra che abbiamo messo insieme in parte rinnovata, in parte all'insegno della continuità nel rinnovamento, comunque sarà in grado, avrà tanto lavoro da fare, da svolgere. Perché gli impegni sono tanti ma non sono un libro di sogni, sono tutte cose concrete e possibili. Fida a quattro questa di Mociano, come la vede soprattutto perché sia da una parte la sinistra è divisa ma anche la destra è divisa? Io non voglio parlare degli altri e neanche commentare quello che dicono, quello che promettono, che risolvono i problemi in un giorno. No, noi abbiamo parlato di cose concrete certe, dall'altra parte sento parlare di cose un pochino fumose, ma ognuno porta avanti le proprie cose e io non devo giudicare gli altri.